oggi edisa edoardo per noi è così che voi siete la nostra luce voi date sapore non solo alla giornata ma a tutta la nostra vita ecco per noi voi oggi siete luminosi ci illuminate con la vostra presenza il vostro amore dà sapore alla nostra vita oggi è un giorno di arrivo ma soprattutto di partenza avete avuto modo di conoscervi bene però resta il fatto che quando si arriva davanti ad altare e qui si sperimenta qualcosa di diverso io edoardo accolgo te elisa come mia sposa con la grazia di cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute nella malattia e di amarti onorarti tutti i giorni della mia vita io elisa accolgo te edoardo con il mio sposo con la grazia di cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute nella malattia e di amarti onorarti tutti i giorni della mia vita oggi è il vostro giorno perfetto solo il primo grande traguardo di tanti altri che vi aspetteranno in futuro è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro e io con voi come tutti noi con voi siamo fortunatissimi ad esserci prima trovati e poi scelti non siamo una semplice compagnia noi siamo una famiglia no 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 E la regina? Perché tu sei e sarai sempre quella luce che ha illuminato la mia vita fin dal primo istante. Adesso hai portato luce negli occhi di Edoardo. Edoardo, tu sarai custode del tesoro mio più grande. Con tutto il mio cuore vi auguro lunga vita insieme. Vi vogliamo tanto bene. Edoardo, tu sarai custode del tesoro mio più grande. Edoardo, tu sarai custode del tesoro mio più grande.